I numeri dei positivi al Covid sono in costante aumento a Salerno come in provincia ed aumentano anche tra i giovani ed il personale docente. L'ultima ordinanza del sindaco Napoli coinvolge il liceo De Santis nel quartiere Torrione, firmata l'ordinanza di chiusura della didattica in presenza fino al prossimo 11 marzo a causa della riscontrata positività al Covid di alcuni studenti e delle conseguenti misure di quarantena disposte per altri allievi. La chiusura in presenza del De Santis segue quella del virtuoso anche nell'alberghiero, infatti erano stati riscontrati troppi contagi e così niente lezioni in presenza a Salerno. Da qualche giorno invece al liceo Regina Margherita sono riprese in presenza le lezioni, anche se per un numero limitato di studenti in virtù dei problemi di sicurezza che riguardano la scuola, che ad inizio febbraio era stata chiusa per due settimane a causa del Covid riscontrato tra docenti e personale dell'istituto stesso. E sempre nelle scorse settimane per lo stesso motivo si era registrata la chiusura di un plesso della Giovanni Paolo II. Nel frattempo l'ASL sta monitorando la situazione contagi in diversi istituti superiori della città, dove sono emersi alcuni casi positivi. Mentre prosegue lo screening scolastico voluto dal comune di Salerno e realizzato in collaborazione con la fondazione Ebris. Molti genitori sono preoccupati e chiedono la chiusura degli istituti scolastici. Il problema è scuola in presenza, chiusa a comune a diversi comuni della provincia, da quella a nord a quella a sud del capologo, aule off-limits nell'agronocerino, ma puri a Cetara, a vetri sul mare, nei giorni scorsi la chiusura di un plesso a Baronissi. Mentre da ieri scuole chiusi a San Gregorio Magno ed in un plesso di Colliano.